Il suo talento enorme, straordinario, poi grave, un'artista a 360 gradi, fa tantissime cose, non canta mica solo. Ci ha cominciato a cantare in inglese, ha vinto un festival di Sanremo, cantare in italiano. Dobbiamo ancora continuare, ho un giudizio di un calacolo, l'ultimo inizio, ce l'hanno già fatto con le esibizioni precedenti, di chi mai saremo parlato? Elisa! Siete pronti? Tutti in schiena! Tutti in schiena! Tutti in schiena. Tutti in schiena! Grazie. 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 Grazie.